Nell'ambito dell'attività antidroga denominata Downtown, gli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, hanno arrestato un 19enne fanese e sequestrato un ingente quantitativo di stupefacente. Lunedì pomeriggio, durante il monitoraggio di alcuni spostamenti sospetti, in particolare nel centro storico, i poliziotti hanno individuato uno dei principali canali di rifornimento dello stupefacente sulle piazze di spaccio cittadino al dettaglio, rivolto soprattutto alle fasce giovanili. In tale contesto, gli agenti hanno concentrato l'attenzione su un'auto che è stata poi fermata al casello dell'autostrada. I poliziotti hanno rinvenuto 1,3 kg di marijuana conservata in diversi pacchi e 184 g di hashish pronti per essere ceduti ai vari spacciatori della città di Fano. Inoltre sono stati trovati il materiale necessario al confezionamento delle dosi, 500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita ed ulteriori 19 confezioni di snack contenenti funghi allucinogeni e THC con concentrazioni del principio attivo superiori al limite consentito dalla legge e la cui distribuzione è proibita in Italia. Questi prodotti venduti a 80-100 euro a confezione sono molto pericolosi, infatti una volta ingeriti passano attraverso il sistema digestivo dove il THC provoca un effetto molto più intenso per poi entrare nel flusso sanguigno. Il giovane è stato arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Questa mattina l'arresto è stato convalidato, al 19enne è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.